La distanza di questi temi dalle prime pagine è proprio il punto di partenza, mi sembra di capire, di questo lavoro di inchiesta perché appunto è qualcosa di cui si è parlato ma in maniera un po' superficiale nel corso della pandemia e poi ce lo siamo decisamente dimenticato. È un lavoro di inchiesta a cui ha preso parte IRPI Media che noi contattiamo spesso per farci raccontare i loro complessi lavori e in particolare quest'oggi ne parliamo con Francesca Ciculli, benvenuta a Suplay. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito. Allora parliamo di una inchiesta, appunto come dicevo una di quelle inchieste di cui IRPI Media non è l'unico soggetto, avete lavorato assieme a testate internazionali sotto al nome, sotto all'hashtag forse si deve dire di Invisible Workers. Lavoratori invisibili, ti chiederei allora insomma di raccontarci a grandi linee di che cosa vi siete occupati e appunto qual è stato il punto di partenza che ve ne è proprio spiegato all'inizio della vostra introduzione sul sito di IRPI Media. Certo, allora Invisible Workers è uno dei filoni di inchiesta di IRPI Media che porta alla luce le condizioni di sfruttamento dei lavoratori agricoli in Europa, dei lavoratori stagionali e che sono stati diciamo per lo più ignorati fino alla pandemia quando soprattutto in Italia abbiamo iniziato a sentire, iniziato a circolare il messaggio che appunto mancavano migliaia di lavoratori stagionali perché il lockdown e le misure destrittive della pandemia, quindi dovute alla pandemia e all'emergenza sanitaria avevano impedito a molti lavoratori stranieri stagionali di arrivare in Italia proprio nel momento in cui insomma iniziavano, iniziava la raccolta di frutta e verdura. Quindi in quel momento però si è quindi posta l'attenzione su questi lavoratori soprattutto perché poi nonostante il lockdown sugli scaffali dei nostri supermercati vedevamo frutta e verdura e quindi abbiamo iniziato a chiederci quali sono le condizioni di lavoro di queste persone che nonostante le misure restrittive, il lockdown, quindi tutte quelle misure fatte per arginare i contagi continuano a lavorare, in che condizioni lavorano, in che condizioni vivono e quello che è emerso dal nostro lavoro di inchiesta che come appunto dicevi è stato condotto insieme ad altri partner stranieri tra cui l'Etaus Report che ha coordinato tutto il lavoro ha portato alla luce condizioni di sfruttamento caporalato che comunque in Italia sono noti ma che durante la pandemia sono emersi con più forza perché poi contemporaneamente arrivavano notizie di focolai che esplodevano all'interno di questi, in alcuni casi possiamo parlare proprio di ghetti creati queste comunità, avevamo i bulgari a Mondragone per esempio ma non solo, abbiamo parlato dei migranti, dei braccianti stranieri che raccolgono poi la frutta a Saluzzo nell'agropontino in tutti questi casi si creavano appunto dei focolai perché alle condizioni di sfruttamento lavorativo spesso si accompagna poi una condizione di precarietà anche sociale e abitativa molte di queste persone vivono insieme decine di persone anche nello stesso alloggio e non c'è la possibilità come per tutti noi di isolarsi in caso di contagi queste persone non avendo tutele poi nel posto di lavoro erano costrette anche ad andare a lavorare nonostante magari dei sintomi appunto del Covid quindi abbiamo cercato nei nostri vari pezzi di portare alla luce queste condizioni quello che emerge in generale è un quadro di sfruttamento appunto generalizzato con braccianti che lavorano anche 16 euro l'ora sottopagati quindi molte delle ore che poi lavorano non vengono conteggiate abbiamo raccontato in molti nostri pezzi l'escamotaggio diciamo del lavoro grigio che è la nuova forma di sfruttamento diciamo non più nuova ormai ne sono anni però che hanno adattato gli imprenditori italiani i proprietari insomma di aziende agricole italiane per cui una parte delle ore viene inserito in busta paga ma in realtà questi lavoratori lavorano molto di più delle ore conteggiate in busta paga ma la busta paga risulta formalmente corretta quindi per eventuali controlli cioè questi imprenditori passano diciamo i controlli in maniera positiva ma in realtà poi ascoltando i lavoratori ci dicono che non è vero che hanno lavorato tutte quelle ore abbiamo dei lavoratori che percepiscono una parte di stipendio in busta paga e l'altra parte in nero alcuni costretti a ridare una parte del loro stipendio poi in contanti non solo ai loro datori di lavoro che chiamano padroni che è una cosa che sottolineiamo spesso perché è un termine che ci sembra ormai pensavamo quantomeno di aver lasciato indietro invece no, è molto utilizzato ancora dai braccianti insomma stagionali nel nostro paese e non solo e quindi niente quindi abbiamo queste condizioni i datori di lavoro, i padroni spesso richiedono indietro una parte del compenso che danno ai propri dipendenti e addirittura a volte lo fanno richiedere magari dai loro commercialisti, dai loro avvocati quindi si è creato dopo la legge dell'università contro il caporalato comunque ha dato una grossa mano nel cercare di proteggere questi lavoratori comunque un nuovo sistema di sfruttamento che in qualche modo è ancora più strutturato perché coinvolge non solo i datori di lavoro ma anche appunto commercialisti, avvocati l'altra cosa appunto che abbiamo raccontato è che se nel diciamo nell'Europa regionale sappiamo dei casi in Italia, sappiamo della Spagna insomma della Grecia dove è molto diffuso il caporalato nel nord Europa i lavoratori stagionali non sono comunque esenti da questo tipo di sfruttamento che però si svolge o comunque viene poi diciamo passa dall'intermediazione invece delle agenzie interinari che comunque fanno lo stesso tipo di lavoro cioè offrono ai datori di lavoro della mano d'opera a basso costo quindi ecco non è un argomento comunque che interessa l'Europa intera per questo ci siamo uniti in diversi partner e le condizioni appunto di lavoro sono sempre le stesse pensate che appunto in Italia la paga oraria dovrebbe essere secondo i contratti nazionali di almeno 9 euro invece tutti i lavoratori che abbiamo intervistato ci hanno detto di non prendere più di 6 euro l'ora non hanno pause, non hanno giorni di riposo, spesso lavorano da lunedì alla domenica l'unica cosa che insomma li blocca nel loro lavoro è la pioggia però loro ci hanno raccontato spesso se noi se piove noi non lavoriamo, non ci viene pagata quella giornata quindi ecco mancanza di tutele nel caso della pandemia poi non avevano accesso spesso neanche a dispositivi di protezione individuale come le mascherine ci sono casi per esempio nell'agropuntino che sono poi uscite anche su diversi giornali di braccianti malmenati, minacciati proprio perché avevano richiesto le protezioni durante il covid e le erano state legate quindi ecco una condizione di sfruttamento diffusa in tutta Italia e nonostante questo queste aziende, questi produttori continuano a ricevere degli incentivi dall'Unione Europea tramite la politica agricola comune che non prevede dei controlli sui lavoratori, quindi sul benessere dei lavoratori ma distribuisce dei compensi, comunque degli aiuti economici agli imprenditori agricoli solo sulla base per esempio dell'estensione del proprio territorio quindi non viene fatto un controllo sul benessere dei loro intendenti quindi ecco diciamo che da una parte vengono molto favoriti gli imprenditori agricoli dall'altro non c'è un controllo di nessun tipo o comunque molto pochi sulle condizioni di lavoro di queste persone noi poi in particolare abbiamo per quanto riguarda l'Italia approfondito soprattutto le condizioni di sfruttamento dei braccianti nell'agropontino che è questa zona della regione Lazio, la provincia di Latina che è una zona fortemente agricola e è una delle zone da cui provengono di più alcuni prodotti ortofrutticoli ed è appunto nota ormai da anni per le condizioni di sfruttamento dei lavoratori per lo più indiani ma non solo che appunto lavorano nelle campagne nell'agropontino questo è chiaro, sì sì sì, mi hai già raccontato davvero tanto anzi molto di quello che mi racconti fa ecco purtroppo rispetto a interviste che ho realizzato negli anni con ActionAid che è presente nella zona dell'arco ionico e che ci raccontano spesso esattamente quello che ci stai dicendo tu in termini di condizioni di come cambia l'illegalità insomma si evolve ma si rimane appunto nell'ambito dell'illegalità tra i tanti articoli che avete pubblicato tra l'altro in un arco di tempo piuttosto lungo avete cominciato appunto nel periodo della pandemia dal 2020 gli ultimi articoli invece sono dei primi mesi del 2023 tra i primi articoli si parla di Saluzzo che cito semplicemente perché è molto vicino geograficamente a noi quindi nel caso gli ascoltatori e gli spettatori fossero interessati c'è uno spazio dedicato proprio a questo tu invece ti sei occupata in particolare di altre zone ci puoi raccontare giusto insomma un paio di dettagli rispetto a quello che hai coperto che hai scoperto esatto appunto a marzo del 2023 abbiamo pubblicato questa inchiesta che in realtà fa eco a un altro pet uscito pochi mesi prima che ha costruito e seguito da altri colleghi che riguarda l'isfruttamento dei lavoratori Sikh quindi che provengono dal Punjab dall'India e nell'agropontino quindi come vi dicevo prima nella provincia di Latina io in particolare mi sono occupata dei lavoratori sfruttati all'interno dei pantagiani di Kiwi perché appunto dall'agropontino arriva la gran parte di Kiwi che poi vengono commercializzati con il marchio Zespri che è il marchio più famoso di Kiwi che sono noti soprattutto per i Kiwi gialli e appunto noi abbiamo cercato di più che altro di ricostruire la catena di responsabilità legata allo sfruttamento le condizioni di sfruttamento che abbiamo rilevato sono quelle che vi dicevo prima quindi paghi orari molto basse, condizioni in alcuni casi addirittura dichiarate appunto dalla procura di Latina di sfruttamento e di schiavitù di alcuni braccianti e appunto abbiamo cercato di ricostruire quali sono le responsabilità e quello che abbiamo scoperto è che in realtà la catena è molto lunga non si tratta solo dei proprietari delle aziende agricole come responsabili perché ovviamente impiegano questa manodopera a basso costo ma la responsabilità va oltre e arriva fino ai consorzi di produttori quindi queste cooperative che poi raccolgono i Kiwi da varie aziende dai piccoli produttori locali per poi appunto commercializzarli in tutta Europa con il marchio Zespri quindi la grande multinazionale che cosa fa? stabilisce poi delle regole precise su come deve essere il prodotto su come va raccolto addirittura i produttori raccontano che servono di guanti specifici che il Kiwi deve avere un certo peso, una certa consistenza altrimenti la multinazionale non li accetta ma non viene fatto nessun tipo di controllo sul benessere dei lavoratori quindi sulle condizioni di chi questi Kiwi li raccoglie abbiamo chiesto a Zespri di commentarci le condizioni che abbiamo rilevato poi parlando con i lavoratori e sia Zespri la multinazionale sia i consorzi di produttori ci hanno risposto che in realtà non è responsabilità loro ma di enti terzi di controllo che dovrebbero proprio apporre questi bollini o comunque queste certificazioni di qualità dal punto di vista anche poi del benessere dei lavoratori quindi diciamo che il controllo sui lavoratori è demandato ad enti terzi però evidentemente è un sistema che non funziona se poi nelle aziende continuiamo a riscontrare questo tipo di dinamiche di sfruttamento è uno scaricabarile reciproco in quella fine il responsabile non alza mai la mano non è mai indicato tutto questo insomma fa parte di un lavoro d'inchiesta come dicevamo piuttosto ampio noi qui vi abbiamo dato un piccolo sguardo una piccola disamina di questo lungo e articolato lavoro d'inchiesta che trovate sul sito di IRPI Media molto semplicemente cercando invisible workers sulla invisibilità di questi lavoratori è puntato paradossalmente un riflettore perché appunto noi ci ritroviamo poi questi kiwi ad esempio sui banchi del supermercato del mercato ma non conosciamo tutta la storia che c'è dietro quindi preziosissimo davvero questo lavoro ti devo salutare ti devo ringraziare grazie mille davvero Francesca Ciculli buon lavoro e alla prossima grazie a voi grazie a voi